Un'analisi dei dati del report annuale sull'incidentalità stradale in provincia di Teramo è il risultato della riunione dell'osservatorio provinciale in materia, riunitosi in prefettura, con l'obiettivo di avere coscienza del livello di sicurezza delle strade provinciali e di pianificare interventi mirati in merito. 1118 incidenti, di cui 582 conferiti e 15 mortali, è il dato che emerge dall'analisi del 2022, non molto distanti da quelli del 2019 che vedevano, oltre ai 65 sinistri in più, un dato superiore di oltre 100 unità per i feriti e di una unità invece per quanto riguarda i decessi. Un andamento in risalita è questo il risultato messo in luce dall'osservatorio provinciale sull'incidentalità stradale, che vede i dati in linea con quelli pre-pandemici, visti i livelli di traffico ridotto nel periodo delle limitazioni. Oltre alla mappatura dei tratti stradali più interessati da incidenti, l'osservatorio ha ribadito l'importanza dei presidi di controllo sulla rete viaria, che ha confluito in un piano di massima dei vari interventi da introdurre con azioni sinergiche tra le forze di polizia. Non meno importante, la valutazione congiunta riguardo gli interventi per migliorare le infrastrutture, da avviare in un periodo breve con gli antiproprietari, ossia l'amministrazione provinciale e l'ANAS, perseguendo l'obiettivo di arrivare ad una miglioria della viabilità, ma anche della sicurezza dei cittadini.